Perché il ragazzo è un ragazzo che ha delle difficoltà fisiche, ogni tanto ha dei momenti in cui cala improvvisamente fisicamente e ha questi momenti di difficoltà, è un fine palleggiatore nel senso che è uno che ha una grande velocità di te, secondo me è chiaro che in questo momento sta facendo fatica esprimerla, bisogna essere poco preoccupati perché il ragazzo crescerà prima di tutto e secondariamente perché ci abbiamo Giorginio, in questo ruolo sta diventando veramente un giocatore importante.